L'amore, l'amore, l'amore L'amore, 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 l'amore L'amore, 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 l'am associazione Pro Handicap? Sì, perché bisogna fare un momento di chiarezza che è fondamentale. La Pro Handicap con questo progetto Mare per Tutti rappresenta un fiero all'occheglio per Bacoli e per l'intera regione. Oggi avere l'opportunità di creare uno spazio con il problema delle barrile architettoniche e quindi poter prevedere che il diversamente abile abbia l'opportunità di poter fare mare, spiagge e quant'altro è una bella cosa. Noi come amministrazione siamo sempre stati presenti con questa associazione perché è giusto che sia così, però quest'anno abbiamo fatto un fatto in più, in che senso? Abbiamo dato una stanza, nell'ambito dell'edilizio pubblico, una stanza da adibire ad infermeria per quanto riguarda l'associazione, pure perché abbiamo fatto in modo che in questa infermeria i soggetti disabili possono avere le stesse tipi di terapie, anche in termini di fisichinesi di terapia e quant'altro che possono fare in altri centri. Quindi abbiamo fatto in modo di dare uno spazio in modo da poter fare continuità assistenziale anche durante questi momenti di svago. Era questo l'obiettivo. Sono otto i giovani volontari del servizio civile della Caritas Diocesana in servizio con l'associazione Pro Handicap. L'importanza di un'associazione come la Pro Handicap di avere persone che aiutano come ragazzi del servizio civile? L'importanza è enorme. Noi abbiamo parecchie sedie accreditate, io dico detto sempre a tutti che mi perdonino gli altri, ma la sede veramente dove si vede il volontariato, l'auxilium, l'aiuto alle persone disabili, il vero volontariato è qui, dove c'è la persona che ringrazia il volontario. E alla fine del cammino dell'anno, dei mesi che i ragazzi sono qui, sono i ragazzi a ringraziare loro per l'esperienza avuta in tutti i sensi, nella dolcezza, nella carezza. Molte volte la carezza non è tanto quella fisica, no? La carezza anche a relazionarsi. Allora quando il disabile ti guarda e sorride vuol dire che valutare ha capito il senso, ha maturato anche il fatto di rimanere i problemi a casa. Perché hanno, ci sono persone come loro che hanno problemi ancora più seri. questo è il senso del volontario qui. Maturano, maturano molto, vedono la sofferenza, vedono la difficoltà e in quella difficoltà, in quella sofferenza che il volontario cresce, matura. Certo, è un'esperienza bellissima. I disabili hanno l'opportunità di scendere in acqua grazie a dei lettini da mare appositamente modificati e ad una piattaforma in cemento smontabile. Quali sono le novità dell'edizione 2014? Le novità dell'edizione 2014 sono che quest'anno abbiamo anche una struttura fissa che il comune di Bagoli ha messo a disposizione per organizzare una medicheria e un ufficio accettazione e quindi si va sempre più ad allargare e a dare la possibilità di offrire un ottimo servizio ai nostri utenti. Quanti disabili con le loro famiglie parteciperanno, verranno qui al mare durante i mesi di luglio e agosto? Noi normalmente abbiamo già prenotato oltre 200 famiglie. Tra queste 200 famiglie che si alterneranno è un periodo di 15 giorni ciascuno. Quest'anno si sono aggiunte circa il 20% di famiglie nuove, persone nuove ad iscriversi. Quindi siamo un po' in difficoltà per quanto riguarda gli spazi e le tornazioni. Comunque noi cercheremo comunque come al solito di ospitare tutte e di offrire il meglio del nostro servizio. Le famiglie non sono soltanto bagolesi, flegree, ma vengono un po' da tutta la provincia di Napoli e anche oltre. Sì è vero, vengono un po' da tutta la provincia di Napoli e diverse persone si trovano alloggio sul territorio, trovano posti di riferimento sul territorio per poter usufruire di questo servizio che è un servizio particolare dove loro facilmente non riescono a trovare in altri luoghi. Salvatore, diciamo che ormai 20 anni fa, possiamo dire, voi vi siete inventati questi lettini con le ruote per arrivare direttamente in acqua? Sì, perché il particolare del nostro servizio è proprio quello che permette alle persone con disabilità molto grave di poter essere accompagnati in acqua. Quindi con queste attrezzature particolari è con i volontari, i ragazzi del servizio civile, gli operatori, riusciamo a portare in acqua un gran numero di persone che altrimenti non riuscirebbero a potersi fare un bagno realmente come si deve. Questo è l'unico esempio in campagna di spiagge esclusivamente a disposizione di persone disabili? Sì, purtroppo sì, perché ci sono spiagge accessibili, però per un disabile con altre problematiche motorie non riuscirebbe comunque ad riuscire ad andare in acqua laddove c'è la possibilità di avere a disposizione dei lettini particolarmente attrezzati e dal supporto di personale specializzato. e deputata che non erano giaciatamente le store spiagge escluso. Grazie.